e adesso amici di colpo d'occhio andiamo dal sindaco giuseppe salatiello vediamo se è pronto per riceverci eccoci qua sindaco buongiorno salve gialluca russo colpo d'occhio salve allora noi abbiamo intervistato i cittadini di calvizzano chiedendogli un parere sull'operato del loro sindaco del sindaco giuseppe salatiello abbiamo qui un filmato in questa pennetta che le vorremmo far vedere possiamo amici di colpo d'occhio tv seconda puntata della rubrica botta e risposta con il sindaco questa volta ci troviamo a calvizzano in provincia di napoli che cosa ne pensano i calvizzanesi dell'operato del sindaco giuseppe salatiello oppure che cosa hanno da dirgli venite con noi e la scopriremo che ne pensa lei del sindaco giuseppe salatiello una brava persona una gentilissima persona non ci sono cose belle per calvizzare e lo salute non ci sono problemi secondo lei a calvizzare no no penso che qualche problema c'è ma gli savo si deve vedere il problema degli ambulanti a calvizzano perché noi paghiamo le tasse paghiamo tutto e allora vengono a vendere qua troppi ambulanti quindi troppi ambulanti creano un disagio alla popolazione la circolazione sì la circolazione e pure ai magazzini pure lui è d'accordo anche io sono d'accordo su questa cosa che dice il mio vicino purtroppo siamo un po' a disagio a calvizzano ok vedremo il sindaco cosa ci risponderà su questo argomento va benissimo allora sindaco abbiamo visto qui una prima piccola rimostranza si parla del problema degli ambulanti che creerebbero disagio alla circolazione lei che cosa ne dice beh io prima del problema degli ambulanti parlare anche prima di un problema commerciale è un paese che comunque si deve sviluppare ha bisogno comunque necessita di un commercio più forte ha bisogno attraverso l'impegno politico di attrarre capitali sul territorio perché un piccolo comune stretto nella morsa del comune di marano giuliano di grossissime realtà e quindi di conseguenza c'è bisogno di lavorare affinché urbanisticamente si possa risolvere un problema di attrazione di capitale e quindi far riemergere da un punto di vista commerciale quindi lavorativo anche il paese di calvizzano per quanto riguarda gli ambulanti è una situazione di controllo del territorio è una situazione che va demandata al comando di vigili urbani che mi fa piacere che il cittadino anche come noi amministratori per l'ennesima volta abbiamo sollevato e solleviamo giornalmente un problema di controllo del territorio quando parlo di controllo del territorio parlo del controllo delle forze del comando di vigili urbani sono appena cinque e quindi conseguenza andiamo in difficoltà c'è una situazione di difficoltà anche da un punto di vista di assunzioni perché la legge blocca il numero dei posti di assunzione quindi conseguenza andiamo in difficoltà però sarà mia cura inviare una circolare al comando vigili urbani in modo da tenere sotto controllo il problema degli ambulanti allora qui si parla di un problema delicato come quello del lavoro che cosa rispondiamo alla signora la signora dobbiamo rispondere che calvizzano rispetto a tutti gli altri comuni l'amministrazione ha affrontato questa problematica l'ha affrontata nel senso che il problema della mancanza di lavoro è un problema a livello nazionale se non europeo noi sappiamo che gli indici di disoccupazione aumentano vertiginosamente anno per anno noi invece abbiamo proposto un qualcosa proprio per non per far sì che i giovani e soprattutto chi è che ha famiglie che quindi va in difficoltà non possa gravare sulla famiglia cioè sulla mamma come diceva la signora che cosa abbiamo fatto abbiamo strutturato e abbiamo ci siamo reinventati un cosiddetto servizio civico un servizio civico che dall'inizio dell'anno abbiamo dato lavoro tra virgolette perché spiego anche tra virgolette a circa 100 persone è un servizio civico nel senso che questi giovani queste persone che vengono impegnate invece di dare quel modo assistenziale per tenerli in una situazione di di affronto della vita noi ci diamo una parte di lavoro e quindi recuperiamo al di là del fattore economico che loro necessita anche e soprattutto la loro dignità perché è importante qualsiasi provvedimento che faccia un'amministrazione che tenga conto anche della dignità delle persone il rispetto delle persone ok andiamo avanti è una brava persona è quello che stai facendo fino ad oggi è fatto tutta cosa bene nel senso di io non sono di calvizzano sono di pozzuolo e come sindaco per me è abbastanza buco non ci sono problemi secondo voi vivendo un po la realtà di calvizzano esatto all'ora di commeccio per me si comporta bene con i magazzini con tutto che siamo in commeccio e voi lavorate qui a calvizzano questo è tutto è una bellissima persona che gli devo dire al sindaco lo conosco da ragazzo e io voglio dire il paese si rinnova e così invece sta morendo per giorno per giorno perché i commercianti qua stanno guidando tutti i quali come mai stanno guidando signora perché un po per la crisi che ci sta un po per i grandi che ci sono ci sono i grandi costi e questo è il paese che non sviluppa non c'è gente non si non si fanno fabbricati non si fa niente è proprio morto mancano i fabbricati e mancano i parcheggi come diceva la la signora ha sollevato il problema dello sviluppo del paese sia dal punto di vista del commercio che dal punto di vista demografico magari riallacciandoci a quanto lei ha detto prima se vogliamo aggiungere qualcosa sì sicuramente il problema è un problema di sviluppo nel senso la signora intendeva uno sviluppo demografico perché secondo giustamente evidentemente la sua tesi più persone ci sono e quindi più la domanda cresce ma una domanda per gli acquisti cresce se anche il commerciante è strutturato in modo da poter soddisfare la domanda nel senso che calvizzano anche i commercianti devono cambiare mentalità cioè aprire un'attività commerciale significa offrire una gamma di prodotti vasta che chiunque rimanga calvizzano e non vada altrove quindi anche questo è un monito per i commercianti ognuno deve fare la propria parte cioè l'amministrazione si impegna a ma anche il commerciante deve impegnarsi a tenere i locali commerciali in un certo modo ad avere una un'area vasta di di prodotti in modo che chi è che si ferma possa spendere quindi è contento ed è soddisfatto di questa situazione le dirò un'altra cosa noi stiamo con ormai alle porte del natale e anche il commerciante bisogna che si uniscono tutti quanti e fanno una catena nel senso al di là non umanitario ma una catena anche di festeggiamenti cioè ci deve essere una copartecipazione del pubblico privato in modo che un paese possa essere soddisfatto ma se ne diceva lo sviluppo lo sviluppo in un paese si ha soprattutto più case diceva e quindi più manufatti più situazioni lo si ha solo attraverso una programmazione urbanistica quella che noi abbiamo messo in campo e spero con tutta la mia forza di poter determinare finalmente l'approvazione del nostro piano urbanistico comunale che è un piano urbanistico comunale che è bloccato ed è fermo al 1980 circa 30 anni fa quindi di conseguenza il comune sta in affanno per quanto concerne una situazione di strutture di infrastrutture e quindi automaticamente di un ampliamento demografico questo è l'impegno che noi ci siamo promessi e questa è la promessa che io ho fatto ai cittadini in campagna elettorale che loro mi hanno premiato e che io certamente e sicuramente manterrò. Per quanto concerne il problema parcheggi è stato segnalato come ha visto anche il fatto che ci siano pochi parcheggi a Calvizzano? Sì allora il parcheggio c'è fu fatto precedentemente ma è un parcheggio poco utilizzato nel senso che il cittadino deve iniziare a capire che la macchina va messa nel parcheggio non abbiamo un parcheggio a via Galliero che riesce a coprire tutto il corso ma che in effetti è una situazione di mentalità e quindi bisogna sensibilizzare il cittadino che quando più noi andiamo avanti con gli anni le generazioni cambiano c'è bisogno più di piste diciamo pedonali anziché di quello delle macchine quindi il parcheggio è a circa 150 metri ed è vuoto ma le persone preferiscono invece dover fare la spesa o qualsiasi altro acquisto di qualsiasi genere mettendo forse la macchina al centro del lagareggiato all'interno dell'esercizio commerciale. Questa cultura è finita e quindi di conseguenza il parcheggio c'è ne verranno realizzati altri sicuramente perché su questo stiamo potenziando la nostra struttura ma è un problema di sensibilità è un problema che i cittadini devono comunque capacitarsi che un corso storico un centro storico quale quello di via conte milabello per la sua caratteristica e per le sue difficoltà si presta ad essere comunque un corso pedonale e non di sosta delle macchine. Andiamo avanti. Come dire al sindaco di Calvizzano? No è tutto a posto potrebbe fare qualcosa in più però secondo me è l'ideale per Calvizzano. Cosa pensa lei del sindaco di Calvizzano? Che cosa gli vogliamo dire? È una bravissima persona, è molto competente nel suo operato, politicamente è molto in gamba. Non segnaliamo alcun problema? Nessun problema di nessun tipo, penso che questo paese funziona abbastanza bene, viabilità, le scuole. Penso che non c'è niente da dire. Come ha potuto vedere ne emerge un quadro sostanzialmente positivo direi lei. Che cosa ne pensa? Ma guardi io dico che il giudizio va dato alla fine. Adesso siamo all'inizio del nostro percorso, è un anno che mi sono insediato. Giusto che qualcuno ne abbia detto in un certo modo e anche io accetto soprattutto le critiche perché le critiche sono costruttive, le critiche fanno crescere e poi bisogna capire da che punto di angolazione viene detta la cosa. Noi siamo un'amministrazione aperta, un'amministrazione che comunque condivide tutto ciò che i cittadini hanno bisogno. Però ci vuole tempo e il mio mandato scade fra quattro anni. I punti che io ho promesso con la squadra in campagna elettorale saranno portati a termine e il giudizio poi sarà finale. Però comunque ne tengo conto di quello che è stato detto anche in questa intervista, soprattutto delle critiche che sono state mosse per quanto riguarda parcheggi o altre situazioni. Ma stiamo lavorando. Io spero e penso che alla fine di questo quinquennio Calvizzano comunque è un paese risollevato, risollevato non è più la cenerentola rispetto agli altri paesi e che quindi anche Calvizzano proprio un concetto di dignità di paese rispetto agli altri. Bene, ringraziamo il sindaco di Calvizzano Giuseppe Salatiello. Si conclude qui il secondo appuntamento con botte e risposta con i sindaci dall'Interland a nord di Napoli e vi dimandiamo al prossimo appuntamento.